Nella nuova puntata del GFV 6 si è di nuovo parlato di Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. Negli ultimi giorni il nuotatore ha messo un freno a questo flirt nato nella casa e la principessa non ha preso benissimo questa decisione In diretta Alfonso Signorini ha provato a farla ragionare e Sonia Bruganelli l'ha invitata a pensare più a se stessa durante questa esperienza al reality show di Canale 5 Sei innamorata e di vede, le ha detto il conduttore, con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza. Lulu si è poi lasciata andare a una confessione Nella mia vita ho avuto problemi gravi. E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta prendere dal panico Ma Alfonso Signorini ha aggiunto il carico da 90, a volte ti comporti come una bambina Chi non ha mai creduto alla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie è il padre del GFV, Franco Bortuzzo, che ne aveva parlato in un'intervista radiofonica GFVip6, la GF del padre di Manuel Bortuzzo Non credo al colpo di fulmine, le parole di Franco Bortuzzo, se Lulu è il tipo di mio figlio? Io credo di no Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende E con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto Ora si torna a parlare del padre di Manuel Bortuzzo, che è già entrato al GFVip6 per fargli una sorpresa Ha pubblicato su Instagram due post che non sono sfuggiti ai più attenti Il primo, come riporta il sito Bixi, è una storia con una foto di Sofico Degoni con scritto post muto Il secondo, un post, è una foto di suo figlio e della ex wedding tenti a festeggiare Ma attenzione, anziché taggare Sofico Degoni ha taggato solei sorge avendo probabilmente confuso le due bionde del GFVip6 Nemmeno a dirlo le due foto hanno fatto discutere i fan del reality perché è stata proprio Sofico a scatenare, involontariamente, la rottura tra Manuel e Lulu E infatti, se ne è parlato anche in diretta, la principessa si è sempre mostrata insofferenti nei confronti dell'amicizia fra Manuel Bortuzzo e Sofico Degoni lasciandosi andare assenati di gelosia La domanda dunque è, a fronte delle dichiarazioni di Franco Bortuzzo su Lulu, questa foto con Sofì voleva essere una frecciatina